Buonasera da Napoli, per la prima volta sono vietati assolutamente i fuochi d'artificio a Capodanno. Il divieto riguarda tutto il territorio cittadino e parte dalle ore 16 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 24 del 1 gennaio 2022. La stessa ordinanza è stata firmata dal giudice Manfredi, ripeto come potete sbembevere, assoluto divieto di fuochi d'artificio, pirochecchica. Da Napoli è tutto, felice anno nuovo!